C'è nessuno? C'è nessuno? Aiuto! Aiuto! Ciao Fred, com'è? Bene Fabio, sembro un po' stanco però. Ha letto sempre tardi? Sì, ma ormai non dormo quasi più. Sfrutterò queste tre settimane per rilassarmi un po'. Tu sogni? Quando dormi? Tutti sognano. Tutti sognano ma non ce lo ricordiamo. Cosa vogliono dire? Niente, assolutamente niente.